amici di 422 race siamo in sala stampa al circuito dell'estolino in portogallo con un giocatore del milan ciao robert ciao pizziero senti robert parliamo vabbè ha fatto una qualifica e si è arrivato il secondo facciamo due domande proprio su super league visto che siamo qua per vedere quello a pagare e seguire la tua gara tra l'altro noi ci occupiamo anche l'ufficio stampa proprio l'italia per il super league allora siete contenti con due squadre italiane prima prima fila infatti è stato molto facile anche fare proprio le release per la stampa e tutto è stato perfetto la tua qualità è andata non male direi è chiaro quando sei in finale puoi vincere il gol è il migliore però partiamo è la prima volta che guida qui sono arrivato ieri sera e non me l'aspettavo sì bello mi piace veramente è stupendo perché ha anche tanta differenza salisce sale scende uno parte dietro sembra raguna secca si è una buona esperienza senti allora io direi che va bene per quanto riguardo super league e ti ringrazio 4 2 2 3 grazie a tutti grazie a tutti